Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. L'Italia dunque è entrata nella fase 2 grazie al calo dei contagi. Non siamo ancora usciti però dall'emergenza, da oggi si sono allentate alcune misure. Durante la diretta di questa mattina nella rassegna stampa Occhio ai giornali vi abbiamo spiegato in sostanza che cosa cambia dunque per tutti noi da oggi. In tanti sono tornati al lavoro, i parchi pubblici sono stati riaperti, si può tornare a fare attività fisica in spiaggia. Partiamo da Fano dove abbiamo raccolto anche la rabbia e lo sconforto di un gestore di spiagge che chiede aiuti concreti e risposte immediate sul futuro degli stabilimenti balneari. Il servizio di Simona Zonghetti con le immagini di Filippo Pucci. Tu dimmi, come compagnia prenderesti un gazebo e poter venire al mare in due o tre amici alla volta? Oppure ci si organizza il sabato e la domenica e si va nel giardino, nella piscina dell'amico in questione? Quindi ci ammazzerebbero economicamente? Cresce lo sconforto dei concessionari di spiagge ancora in attesa di norme e date certe. La domanda non è solamente chi verrà al mare ma anche come dobbiamo far arrivare la gente, visto che adesso nell'ultima bozza si parla del 29 maggio, ma il 29 maggio ci sono 25 giorni. Noi dovremmo sapere oggi più o meno come poter piantare gli ombrelloni, finire di fare i lavori in spiaggia e partire con il lavoro. Nicola Tanfani, titolare dei Bagnarzilla Fano, critica il ritardo delle regole per gli stabilimenti. La regione sta lavorando sulla bozza e se le linee guida al momento inserite entreranno in vigore, secondo i gestori sarebbero troppo restrittive. Si prevede infatti la registrazione dei clienti, il divieto di svolgere attività ludiche e ricreative, sanificazione costante ma anche evitare l'uso di banconotte e mantenere le distanze in acqua. Infine ombrelloni lontani, 4 metri e mezzo l'uno dall'altro con distanza di 5 metri tra le varie file. Questi ombrelloni messi così con una distanza tra lettino destro e lettino sinistro di 3 metri, quindi eccessiva perché parliamo sempre di un metro e mezzo o due di sicurezza. Così messi così ci sarebbero 3 metri, uno. Due, passiamo dai 480 ombrelloni più o meno a 150, 180, 200, cioè un terzo. Una spiaggia come la nostra, io penso che quelle spiagge che hanno 100 ombrelloni faranno molta fatica, anche noi, noi faremo molta fatica a tenere aperto in base alle spese che abbiamo, De Magno, Imu, Tari eccetera eccetera. Se queste spese dovessero rimanere fisse, veramente io e mia madre ci stiamo chiedendo se conviene aprire. Con questo numero di ombrelloni, con le attività tipo beach volley, il bar che lavorerà un 10% dell'anno scorso e questo io vorrei capire che non si parlasse più di bozza ma si parlasse di cosa definitiva per fare i miei calcoli, per sapere se posso aprire oppure no. Sarà difficile, secondo Tanfani, garantire anche i giusti controlli. Sotto l'ombrellone, se mettiamo ipoteticamente possono stare due famiglie, nel momento che sono insieme, chi è che deve intervenire? Io? Io faccio il bagnino o faccio anche lo steward quindi della spiaggia? E quindi c'è ecco, tante domande, quest'anno ci vorrà un bagnino di salvataggio che guarda il mare e un bagnino di salvataggio che guarda indietro negli ombrelloni perché per far stare separate le persone. E poi, come dicevamo prima, su 480 ombrelloni ne mettiamo 200, adesso chi dice ai miei 284 clienti che non possono venire quest'anno che l'ombrellone non c'è? E poi, un'altra domanda, queste 280 persone non trovando l'ombrellone possono andare in spiaggia libera o le spiagge libera saranno chiuse? Cioè, se le spiagge libera sono chiuse, le spiagge private montano un terzo delle attrezzature, dove va la gente al mare quest'anno? Mentre si attendono notizie per gli stabilimenti balneari, oggi a Fano sono stati riaperti il parcheggio dell'ex caserma Paolini e i parchi pubblici. Entro domani poi le aree gioco verranno delimitate perché ne è vietato l'utilizzo. Sulle panchine ci si potrà sedere uno alla volta. Rimarranno chiusi gli impianti sportivi e la passeggiata dell'Esippo. Il controllo sul rispetto dei divieti e su eventuali assembramenti spetta ai vigili urbani. Per le spiagge libere, invece, il Comune sta definendo le linee guida insieme alla Regione e ai rappresentanti di categoria. Quindi sicuramente ci saranno delle regole da rispettare e probabilmente saranno, come dire, sulla limitazione degli assembramenti e anche degli spazi e delle persone che potranno usare gli spazi. E poi ci sarà un controllo capillare da parte della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto. Intanto molte persone questa mattina sono uscite per la prima passeggiata concessa dopo mesi di quarantena. Giovani e anziani, già dalle sette, si sono recati in spiaggia per correre, camminare o pedalare. Chi da solo e chi in compagnia di un amico a quattro zampe. Qualcuno poi non ha resistito e ha fatto il primo bagno in mare della stagione. Stamattina è la prima volta. Come si sta? Si sta molto bene, guarda che mare. E' una meraviglia. Speriamo che tutti siano prudenti e che mantengano le distanze. Direi che è come tornare a vivere. Troppo bello. Sembra di volare, non c'è nessuno, il tempo bello. Era ora di uscirne. Adesso bisogna solo stare attenti. Di che quartiere è? Io sono di Pesaro. Ecco, quindi ha fatto tutta la ciclabile. Tutta la ciclabile per vedere il mare e per vedere com'era questo nuovo ciclo. E com'è? Bellissimo. Questa è dunque la situazione a Fano. Adesso andiamo invece a Pesaro. La prima volta che uscite da questa quarantena? Sì, giusto per fare due passi, per rivedere il mare dopo quasi due mesi. Sembra un sogno poter essere all'aria aperta nuovamente. Due mesi che non vede il mare. Bravo. Siamo tutti contenti. Logicamente con le giuste precauzioni, però veniamo a fare una passeggiata, a muoverci perché fa bene anche prendere il sole. Siamo andate a fare la spesa e ne approfittiamo per fare una passeggiata di ritorno sulla spiazza. Che aspettative avete per questa estate, insomma? Speriamo di poter andare al mare in sicurezza e tranquillità. Nel momento assaporiamo un po' di mare, facciamo un po' di movimento all'aria aperta, che fa sempre bene. Pensa che qualora si possa andare in spiaggia sotto l'ombrellone, lei si è tranquilla oppure qualche timore ce l'ha? Oddio, secondo me ci si sta organizzando bene in tutti i settori noi italiani, quindi no, credo che una volta che si apre vuol dire che sia responsabili e sicuramente andrà bene. Andrà bene, ecco, questo è il caso di dire che andrà tutto bene. Una giornata attesa, desiderata, agognata, quella di oggi per tutta Italia, attesa come si aspetta il sole dopo un violento acquazione nella speranza di vedere poi tra i raggi del sole comparire l'arcobaleno. La città, i parchi, le aree verdi, ma soprattutto per quelle affacciate sul mare, le spiagge, sono diventate il luogo dove è celebrale la rinascita, anche se consapevole e con tutte le precauzioni del caso. Anche a Pesaro, come in altre città e località marchigiane, si è celebrato questo rito sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine, attente all'osservanza comunque delle disposizioni per far sì che questa fase 2 parta col piede giusto. L'intuazione al momento direi che è abbastanza tranquilla, sotto controllo, abbiamo un elenco di parchi da controllare. Quindi possiamo dire pesaresi abbastanza rispettosi delle regole? Sì, direi almeno al momento senz'altro, ripeto, adesso il controllo è il primo giorno ovviamente, tra l'altro non è terminato perché i parchi, i giochi sono tanti, però al momento veramente direi che la situazione è ottimale. Dopo la guerra in trincea dei mesi scorsi degli ospedali e dei reparti intensivi dove il personale sanitario ha lottato all'arma bianca contro questo nemico invisibile, da oggi i campi di battaglia contro il coronavirus sono i luoghi simbolo della riapertura, le strade, i parchi, le spiagge, i cimiteri, dove è stato possibile oggi tornare a portare un fiore sulla tomba dei propri cari e a tenere sotto controllo tutti questi luoghi e a regolamentarne la loro fruizione in sicurezza, ancora una volta il grande cuore dei volontari che anche in questo caso si sono messi al servizio dell'intera comunità. È abbastanza sotto controllo, abbiamo visto molto più movimento in giro chiaramente, come traffico, come anche persone che sono uscite a farsi la loro passeggiata, molte più persone con i bambini, giustamente, che portano fuori i piccoli a prendere una boccata d'aria e tutto quanto. Adesso non so quale sia la situazione reale del parco perché io non ci sono andato, perché abbiamo controllo anche del parco Miralfiori, ma ancora è abbastanza bene. E qui al parco Miralfiori la situazione com'è? Per ora è molto calmo, però ancora è abbastanza pressivo e oggi ci sarà più gente. Ma in questa giornata colma di euforia non ci si poteva scordare di chi non c'è più, di chi purtroppo la guerra contro il virus l'ha persa. E così Matteo Ricci è andato al San Decenzio nel giorno della riapertura dei cimiteri. In fascia tricolore il sindaco ha deposto una rosa sulla tomba di Andrea Rossi, scomparso a 46 anni lo scorso 8 marzo con i sintomi del coronavirus. Grande tifoso della visse e della VL, affetto da sindrome di Down, era conosciuto da tutta la città e frequentava il centro diurno T41. Il servizio era di Lino Balestra. Adesso invece con Francesco Salvago e Nico Petraia andiamo a vedere quello che è successo a Senigallia. L'inizio della fase 2 a Senigallia si prospetta in questa situazione. Le spiagge del lungomare si stanno popolando di vari runner pedoni. A pochi metri dalla battigia invece a rilento e a fatica gli operatori balneari stanno iniziando i propri lavori di manutenzione. La Regione Marchi ha autorizzato da oggi le passeggiate individuali in spiaggia, senza assembramenti nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. Diversi cittadini che hanno approfittato della giornata di sole e temperatura favorevole per tornare a camminare, non tutti indossando la mascherina ma mantenendo la distanza di sicurezza sociale. La prima passeggiata dopo la fine dell'Opedal? Sì, la prima volta che mi allontano da casa. Che sensazione ha a saporare quest'aria di mare? La sensazione di libertà, di respirare aria buona, pulita, nonostante tutto, però dai, siamo positivi. Come è passata questa quarantena? Eh, no, dai, tutto sommato abbiamo fatto questo sacrificio per il bene di tutti, era assolutamente necessario, quindi siamo stati ovviamente in casa, io ho anche dei figli, quindi sono stati molto bravi anche loro e ecco, oramai speriamo di ritornare pian piano verso la normalità. Come è stata questa giornata di ripartenza? Siamo in piena fase 2, è iniziata. La giornata è buona, però ci vuole un po' di sicurezza perché io penso che ormai fa più attenzione che nel passato perché siamo un po' più liberi, però c'è un po' più attenzione, ci vorrebbe. Lungo la renile c'è anche chi tracorse mattutine e passeggiate si è fermato per fotografare la rotonda mare. Stavo fotografando la rotonda, lì è mancata? Beh, è mancata no, non è che sia, abitando qui, diciamo che è una meta delle passeggiate e quindi cerchiamo almeno da questo punto di vista qui di tenerci e di recuperare un po' di forma, di smaltire qualche chilo che si è accumulato come tutti e speriamo appunto, le prospettive sono quelle, che si possa uscirne fuori abbastanza in fretta e che si possa ricominciare a vivere. L'inizio della fase 2 è iniziata dunque in tranquillità a Senigallia, già dalle prime ore del mattino, anche per diversi proprietari di concessioni balneare, in azione per i lavori di manutenzione delle attività. Difficile mantenere a distanza le regole che ci saranno, ancora non c'è niente ufficiale, ma ci saranno regole e praticamente sarà difficile, però bisogna riaprire e andare avanti tanto. Che gappianza ha la vostra spiaggia? Quanti ombrelloni? Abbiamo 100 ombrelloni e facciamo diversi rettini riva al mare, però con le direttive nuove più o meno dobbiamo ridurre del 50%, quindi diventeranno 50-40. Sto provando già la posizione degli ombrelloni? Il fratello del mio socio, dell'altro ragazzo, è architetto e ci aveva già fatto il piano spiaggia e già ne ha fatto uno nuovo per questa stagione qua. Stiamo aspettando le regole per poi mettersi a norma. Io sto con molta calma perché pensare al 29 di maggio, sì, noi in teoria saremmo quasi pronti. Gli altri anni, in questo periodo, avevamo già messo gli ombrelloni e preparato la spiaggia. Siamo arrivati tardi, col tempo meraviglioso che c'è stato, marzo-aprile, una roba che quest'anno sarebbe stata fantastica. Ci aspettavamo un boom di gente, invece questo è. Nonostante la registrazione di altri 44 casi di contagio al coronavirus, rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 557 tamponi analizzati, fra i commercianti c'è una forte determinazione a ripartire e riattivare le proprie attività nel rispetto delle norme in vigore. Aspettiamo che il governo ci dia la data in cui noi possiamo aprire e in che maniera possiamo aprire. È importante sapere bene le regole. Quanti coperti riuscirà a garantire? Allora, noi nella sala interna normalmente mettiamo 70 coperti. Adesso con queste nuove regole non ci sarà più di 20 coperti. Anche a Fanno da oggi è possibile far visita ai propri cari ai cimiteri e sarà possibile anche celebrare i funerali. Ma al contrario di quanto stabilito, nei giorni scorsi non sarà necessario invece misurare la temperatura corporea ai partecipanti. Con l'inizio della fase 2, che prevede un graduale allentamento delle misure di sicurezza, da oggi è consentito l'accesso ai cimiteri di Fanno, ma con l'obbligo di indossare la mascherina e mantenendola a distanza di almeno un metro. Per curare le tombe dei defunti è necessario usare i guanti e lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l'utilizzo. Inoltre il Comune sta programmando interventi di pulizia straordinaria e la sanificazione di locali e padiglioni. È stato prorogato poi l'accesso agli orti per anziani, sempre con l'obbligo dei dispositivi di protezione e rispettando la turnazione e gli orari previsti. Ripartono anche le celebrazioni dell'eseque. Il Vescovo Armando Trasarti ha elencato le regole da rispettare. I funerali si potranno svolgere all'interno o di fronte alla chiesa e al cimitero, ma soltanto in presenza dei familiari più stretti, al massimo 15 persone. Ma il rito, la brevità è sempre determinata dalla dignità del rito. Certo, l'ascolto della parola, l'omelia, la preghiera, il gesto finale saranno tutti comunque commisurati all'importanza del momento. Non dimentichiamoci che stiamo incontrando la morte e la sofferenza. Durante il rito verrà omessa l'incensazione della salma, sarà vietato il contatto fisico nello scambio della pace e cambierà il modo per distribuire la comunione eucaristica. Le persone dovranno stare al loro posto, non dovranno muoversi. Sarà il sacerdote che dopo essersi deterso le mani, aver infilato i guanti e messa la mascherina, porterà lui, l'eucaristia, alle persone che poi la prenderanno esclusivamente sulla mano e la porteranno alla bocca, evitando tutti i contatti. Sarà necessario misurare la temperatura corporea? Ecco, questo grazie al cielo, proprio in un intervento che ieri è stato fatto dal segretario della CEI nell'interlocuzione con lo Stato, è stata omessa. Quindi i sacerdoti, le parrocchie, non dovranno misurare con il termoscanner la temperatura. Però dovremmo invitare i fedeli, che hanno 37,5 di febbre, di rimanere a casa perché metteranno a rischio la loro vita e quella delle altre persone. Al termine della celebrazione i fedeli non dovranno assembrarsi attorno alla salma né accompagnare il trasporto del feretro, dovranno uscire mantenendo la distanza interpersonale. Come avete vissuto questo periodo voi sacerdoti? Ecco, questa domanda mi sembra molto importante perché abbiamo dato notizie tecniche fino adesso, però non dimentichiamo che stiamo affrontando la morte, che è forse la grande sconosciuta che in questo tempo di coronavirus abbiamo capito che fa parte della vita, la morte, la sofferenza, il dolore. Quindi noi preti in questi due mesi abbiamo sempre accompagnato le persone con la preteghiera. Io l'ho fatto nella mia parrocchia, ma tutti i preti lo hanno fatto. Il rito ci aiuta a dare voce alla sofferenza, alle lacrime. Io mi sono trovato tante volte a sentirmi padre, madre, figlio, figlia, sposo, sposa, nipote della persona che è morta. Quindi abbiamo vissuto con grande intensità. Il nostro Vescovo ha anche scritto una lettera che abbiamo consegnato ai familiari. Però dobbiamo dire che la morte fa parte della vita e dobbiamo affrontarla se desideriamo poi vivere e non vivacchiare. Questo quindi è un grande messaggio di speranza che mi auguro anche attraverso il rito doniamo a tutti. Mi auguro che questo cammino possa veramente farci rialzare e risorgere, direi. Ristoratori in rivolta in tutta Italia per le poche tutele previste dallo Stato. Noi oggi siamo andati a sentire uno di questi ristoratori per cercare di capire quali sono gli umori e come si stanno preparando per la riapertura. Parte da Piazza 20 Settembre a Fano il video dell'iniziativa che si è svolta al primo di maggio promossa dal movimento Impresa Ospitalità. Alle 21.30 le partite IVA dell'Oreca hanno spento le luci delle proprie case e i comuni quelle dei luoghi simbolo delle città di tutta Italia. Un segno di protesta contro il governo che non tutela i titolari di bar e ristoranti. Un gesto contro chi prova a metterci in ombra, hanno detto gli organizzatori, rischiando di farci chiudere per sempre a causa di misure economiche inefficaci. Se fallisce il nostro settore si spegne l'Italia. Intanto la Regione Marche sta lavorando alla bozza delle linee guida per riaprire le attività prima di giugno. Tra le misure previste rientrano gel igienizzanti all'ingresso, dispositivi di protezione per il personale, la prenotazione telefonica e digitale, distanze e sanificazione. Il periodo è veramente uno dei più duri da quando faccio il ristoratore, che è più di 20 anni. Siamo veramente in grossa difficoltà. Ci stiamo trovando ad affrontare questo periodo da soli, completamente abbandonate dalle istituzioni, organizzioni, sia governative che comunali. Si sente a telegiornali, ai giornali, aiuti, aiuti alle imprese, soldi di qua, soldi di là, ma nella realtà non arriva assolutamente niente. Diciamo che tutto quello che ci chiedono, molte cose sono giustamente da fare, tipo condimenti monouso, che comunque incidono notevolmente, perché hanno più o meno il tripo del costo di un condimento normale, di un'oliera di ottima qualità, quelle che usiamo noi. Il costo del plexigas, se prima un plexigas di due metri costava 100 euro, adesso è raddoppiato anche quello. Tra le linee guida si prevedono anche sistemi digitali di pagamento al tavolo. Comunque ho pagato più di 1000 euro per fare un'app. Sono costi fissi che aumentano e ci vogliono togliere ovviamente la capacità ricettiva, quindi ci vogliono mettere in ginocchio. Manuel, titolare di due ristoranti, ci ha spiegato che ha già provveduto a sanificare gli ambienti e ad acquistare tutte le attrezzature e i dispositivi necessari. Le spese maggiori però riguardano le bollette, che nel suo caso ammontano 7-8 mila euro al mese, più l'affitto dei locali di un ristorante e il mutuo per l'altro. Abbiamo chiesto i 25 mila euro, quelli che sembrava che lo Stato dava nell'immediato, come mi sembra quando senti la televisione. Nel giro di 24 ore avrete 25... Passati 15 giorni non abbiamo ricevuto nemmeno una mail di dire sì è stata approvata, no non è stata approvata, zero totale. Innanzitutto la cosa più importante per i ragazzi, i miei dipendenti, noi abbiamo circa 23 dipendenti, che arrivi immediatamente alla cassa integrazione. Sono famiglie che hanno bisogno assolutamente di liquidità per poter mangiare nella quotidianità. Questa è la cosa più importante. Per noi come imprese, due le cose che ritengo essenziali. Dei contributi reali a fondo perduto, reali vuol dire reali, non che chiedi soldi, forse arriveranno, massi, no? E una moratoria fiscale che ci dà la possibilità, entro fine anno, di non pagare assolutamente alcun tipo di tassa. Riaprirete quando sarà possibile e in caso aumenterete i costi? Allora, a riaprire, francamente ci sto pensando seriamente. Noi qua adesso a Biricocco stiamo provando a fare l'asporto a pranzo, il risconto adesso è ancora minimo. Però siamo in forza e se potete partire, se ci danno la possibilità di lavorare seriamente, possiamo anche metterci in ballo a farlo. Se no, è meglio aspettare e tener chiuso fino all'anno prossimo. Intanto a certe condizioni non si può lavorare. E adesso torniamo a Pesaro dove è iniziata la distribuzione di mascherine con il sorriso dedicate ai bambini. Questa è per chi è più grande, questa è per chi è più piccolo. Vieni, come si dice? Mi ha. Alex e Diego sono i primi bambini di Pesaro a cui sono state consegnate le mascherine con il sorriso. A portargli la casa direttamente il sindaco Matteo Ricci. Per i bambini abbiamo fatto delle mascherine lavabili fino a 20 volte e così sono certificate, tutte acrossiche, una venda marchigiana con lo smile. Le 8.000 mascherine con lo smile e logo Wipesaro tricolore realizzate in 8 modelli si aggiungono alle 230.000 già distribuite dal comune ai pesaresi. A beneficiarne tutti i bimbi dai 2 agli 11 anni saranno consegnate porta a porta dai 600 volontari di quartiere. Abbiniamo la sicurezza al gioco, ha detto Ricci, è anche un modo per dire che torneremo a sorridere. Nel mese di maggio non dobbiamo abbassare la guardia, sarà un mese fondamentale, non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba e abbiamo bisogno che tutti rispettino le regole, il distanziamento sociale e protezioni. Questo vale per tutti, vale anche per i bambini, ovviamente questa maschera è un modo anche per giocarci perché lo smile è un modo per restituire il sorriso ai bambini, al tempo stesso giocando per far sì che possano essere protetti loro e proteggere gli altri componenti della famiglia o magari le altre persone che incontreranno in giro per la città o nel parco. Perché davvero è un qualche cosa in più che si aggiunge ad una fascia di popolazione che più di altre ha subito gli effetti negativi della quarantena. L'associazione Noi di Sant'Orso ha donato alla Caritas del proprio quartiere un contributo per aiutare i bisognosi a reperire beni di consumo alimentare di prima necessità e offerte per le tante persone che quotidianamente si recano presso questa importante realtà di volontariato cittadino. Avremmo voluto fare di più sperando di poterlo fare presto, vorremmo che diventasse un segnale di vicinanza alle famiglie più bisognose e un esempio per tutti coloro che nel piccolo possono fare tanto con semplici gesti, ha spiegato il Presidente Francesco Massaro. Questa sera facciamo gli auguri invece, quindi avrete capito che stiamo chiudendo il nostro telegiornale, alla signora Gina Pierleoni di Reforzate, Sant'Ippolito, che ieri ha compiuto 100 anni. Il sindaco Marco Marchetti non è voluto mancare il compleanno della signora, il primo cittadino le ha fatto visita nel pomeriggio e le ha donato un bel mazzo di fiori. Auguri dai suoi numerosi nipoti, dai familiari e da tutti noi di Fano TV. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, ci salutiamo con un video realizzato dal Ministero della Salute che riguarda tutti noi e l'uso delle mascherine. Noi ci vediamo domani mattina alle 7.45 dopo la messa con Papa Francesco da Santa Marta. Arrivederci. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Attenzione! Anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.